Il pianeta è esploso! Attenti ai meteoriti! LeaderBot, respingete Distructor! Guarda, è LeaderBot! Incredibile! Il pilota a capo è alla testa del veicolo spaziale e ora si trasforma nel cervello elettronico del robot gigante! LeaderBot, la nuova generazione dei Transformers, l'unione dell'intelligenza cibernetica del pilota con la forza e la velocità del veicolo robot! Inserisci il pilota cibernetico e scopri i poteri dei LeaderBot! Se vuoi vincere la tua battaglia, combattila con LeaderBot, superiori da G!